Attenzione, questo video è un video ironico, si prega di evitare commenti e ma quel Pokemon è bello e ma quel Pokemon è brutto, godetevelo e non rompete le balle. Ecco, già iniziamo benissimo sto trailer, ma cosa saresti tu? Ma che brutto, ma sei inguardabile, ma una stella marina, ma che cosa viene in mente alla Game Freak? Stella marina, pan di stelle, ma cos'è? Non ha gli occhi, ma come cammina sto coso? Ma come fa a essere un Pokemon? Io non lo riesco a concepire, ma è inguardabile, ma poi di che tipo sarà mai? Acqua, psico, ma madoma, no, è bruttissimo raga, è bruttissimo, non si può vedere sto Pokemon. La Game Freak mi sta sempre cadendo più in basso con questi aborti, io veramente non ho più parole. No, 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 non è vero, dai, non è possibile, ma io volevo una generazione decente dopo la testa, invece, invece, questo, ma cos'è? Ditemi cos'è, ma dopo Cargebug e il Pokemon batteria dovevano per forza fare anche una calamita, ma questo è sicuramente di tipo ghiaccio e te credo lo attacco al frigo, è ovvio, si congela? Oddio, non si può vedere, mamma mia, che cosa brutta, ma poi quell'occhio, quell'occhio, ma vogliamo parlare dell'occhio? Ma che cazzo guardi? Un puntino, ma sembra che gli hanno trappanato gli occhi, le viti, i buloni, no, vabbè, basta, dai, i Pokemon fanno sempre più cagare con ste nuove generazioni, io non so più cosa dire, veramente. No, ditemi che non è vero, ditemi che non è vero, no, cioè, gli hanno fatto un'evoluzione, potevano farlo diventare qualcosa di bello e gli hanno fatto, gli hanno attaccato tre cose uguali, ma cos'è questa roba? Ma, ma dove è finita la fantasia? Questa è una bella domanda, ma, ma, ma io, no, vabbè, ma dove sta finendo la serie Pokemon, ragazzi? Ma, c'era un Pokemon, lo dovevano evolvere e ci hanno, ne hanno attaccati tre insieme, ma quei siamo matti, veramente, oh. Datemi una frusta che vi flagello la minchia! Ma, 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 ma è, è, è quello di prima, è, è solo drogato perché c'ha gli occhi aperti, ma, 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 oddio, è un ammasso di acidi che si muovono con le braccia, ma, ma cosa, io non, cioè, l'ergastolo per chi crea sti aborti, l'ergastolo, guardalo poi, guardalo che faccia convinta, è felice di essere nella regione di Alola, ma, 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 leva, ti va, schifoso. Vabbè, dai, questo non è un Pokemon, hanno sbagliato trailer, volevano metterlo nel trailer sulle nuove bacche di Alola, è palesemente un grumo di spaghetti, ma come, ma io mi chiedo, ma non vi viene in mente quando fate certe cose che magari potrebbe far, far, far sboccare i bambini, potrebbe urtare la sensibilità, e poi, perché? Hai due cazzo di stivali se non hai i piedi, oddio, senza senso, senza senso, e poi è anche strabico, giusto per raggiungergliene un'altra, povero Cristo. No dai, pure i leggendari, no, vi prego, ma questo è, questo è, questo è figo, eh già. 46 euro per sti cosi, vabbà, io vado a comprare patatine, con 46 euro, Pokemon di merda.